Con il miglioramento della qualità dei software e della videoconferenza basata su cloud e la possibilità di portare i propri dispositivi personali sul posto di lavoro, sempre più persone stanno iniziando a utilizzare i propri computer non solo per videochiamate personali ma anche per videoconferenze correlate al lavoro. Questo di solito funziona bene quando c'è una sola persona per computer. Ma cosa succede quando più persone utilizzano lo stesso computer? Può una sala conferenze piena di persone utilizzare solo un personal computer per le videoconferenze con la stessa facilità di una singola persona? Sfortunatamente, con la maggior parte delle fotocamere o webcam incorporate nei PC, non è possibile riprendere allo stesso tempo più persone in un'immagine. Può anche essere difficile per chiunque dire cosa sta succedendo. Tuttavia, ora c'è una soluzione, la fotocamera Aver VC520. Dopo una semplice configurazione, tutto ciò che devi fare è collegare l'alimentazione al computer tramite USB e sei pronto per iniziare la conferenza. Con lo zoom ottico 12x, la fotocamera VC520 ti consente di godere di video Full HD 1080p di alta qualità e permette di notare tutti i dettagli. Inoltre, la fotocamera può essere programmata per spostarsi fino a un massimo di 10 posizioni preimpostate, consentendo di modificare la messa a fuoco di una riunione semplicemente premendo un pulsante. In più, se la tua sala riunione è troppo grande per un solo altoparlante, puoi utilizzare la funzione Daisy Chain. Infine, questa comunicazione video di alta qualità è possibile per le aziende con qualsiasi tipo di budget. Grazie, grazie.